Tre giorni di astenzione dal lavoro degli avvocati penalisti, uno sciopero proclamato dall'Unione Camere Penali per protestare contro quella che gli avvocati definiscono una riforma assistematica del processo. Per i penalisti lo slogan prescrizione più lunga e processi più brevi è uno simoro per coprire le carenze organizzative che portano oltre il 70% dei processi a prescriversi nel corso delle indagini preliminari. I penalisti dicono no all'ipotesi di ampliamento dei termini di prescrizione e al ricorso alle videoconferenze nei processi. Noi abbiamo fatto in questo anno e mezzo molte proposte, stilato molti documenti, partecipato anche con emendamenti forniti trasversalmente alle forze politiche a questo iter di modifica del codice penale di procedura penale. Ci sono alcune cose che sono state migliorate, altre non ci piacciono per nulla. Abbiamo ritenuto che fosse importante una riflessione per dibattere su alcuni temi fondamentali. Intanto segnalando come sia sbagliata una riforma sistematica che non abbia ben presente l'idea del processo che si intende perseguire. Noi riteniamo che l'unico processo giusto e corretto sia quello liberale e democratico con un giudice terzo dove la prova si forma nel contraddittorio a dibattimento e dove le indagini non assumono quel ruolo preponderante che invece oggi hanno. I penalisti vogliono sottolineare che non è un'agitazione di carattere sindacale ma è in difesa dei diritti dei cittadini. Si rivolge tanto all'opinione pubblica quanto alla politica. All'opinione pubblica per dire attenzione, siete vittime di un inganno, di una disinformazione che vi vuol far credere che tutti i problemi del processo potranno essere risolti attraverso un allungamento dei tempi della prescrizione. Non è così. Allungare i tempi della prescrizione significa semplicemente allungare i tempi del processo e non evitare le prescrizioni che semplicemente saranno spostate più in là. E al tempo stesso allontanare la condanna per un fatto dai tempi della commissione del fatto significa creare un danno non soltanto all'imputato, non soltanto alla persona offesa che dovrà attendere vent'anni prima di sapere di poter essere o no risarcita per il danno subito, ma per l'intera collettività che ha diritto di sapere invece se un proprio amministratore ha commesso un illecito, lo deve sapere rapidamente. La protesta è rivolta nei confronti della politica sì, ma anche della magistratura. Non è solo il problema della prescrizione. In generale alcuni ispetti della riforma Orlando non persuadono. Alcune iniziative legislative con elevazione delle pene, inasprimento delle sanzioni, costruzione di nuova fasi specie hanno lasciato abbastanza perplessi gli avvocati penalisti, sempre a tutela dei diritti del cittadino. Per altro verso la manifestazione o l'evento si rivolge anche nei confronti della magistratura, nel senso di dire che c'è una tendenza della giurisdizione, cioè delle sentenze della Corte di Cassazione, a ridurre, a ridimensionare le garanzie difensive attraverso una giurisprudenza involutiva. Le sezioni unite in particolare, dovendo scegliere nel contrasto della giurisprudenza, cioè degli stessi magistrati, fra una logica garantista e una logica inquisitoria, fanno prevalere sempre la seconda lettura delle norme, il che lascia abbastanza perplessi, perché non sono sentenze scritte dagli avvocati, sono sentenze scritte dagli stessi magistrati, alcuni garantisti e alcuni di segno meno garantista. Grazie a tutti.